Bella ragazzi, rieccoci qua. Oggi video molto breve per quanto riguarda piccole pillole, piccoli consigli legati al video precedente, sul tutorial della mira. Allora, oggi parliamo di due aspetti semplicissimi, ovvero il flick e il doppio triangolo. Allora, cos'è il flick? Vi faccio vedere un video, così capiamo subito. Flick vuol dire passaggio da target 1 a target 2, senza mai togliere. La mira. Allora, ci spostiamo. Vi faccio vedere sul mio Instagram questa clip. Allora, io mi trovo... rigeneriamola. Ok. Mi trovavo in Farmaland. Atterro 1v3. Atterro il primo, mi butto fuori dalla finestra, me ne trovo due, inizio a sparare e poi switcho al secondo. Boom. E lo uccido. Come potete notare, quando ho fatto questo flick, il nemico, il secondo nemico, dove poi ho spostato il mirino, non mi stava sparando. Cioè, aveva capito che i colpi provenivano da lì, ma non mi aveva ancora individuato. Quindi il flick l'ho potuto fare. Poi contate anche che usa una sensibilità molto alta. Quindi, diciamo che in questo caso era necessario. Però, la parte fondamentale è... ma è davvero utile il flick? Allora, il flick è utile, ma è anche un limite. Perché vi fa perdere tempo. Cioè, se state fightando da vicino, con una mitraglietta ad esempio, non potete permettervi di perdere tempo e passare, fate finta che la distanza sia la medesima, mirare uno e poi spostare il mirino sull'altro. Perdete troppo, troppo tempo. Non fatelo. Per quello, nel tutorial precedente, io vi ho spiegato quanto, diciamo, sia importante il discorso aggancio. In questo caso vi serve. Mitraglietta, MP5. Entrate all'interno di un edificio. C'è un tavolo al mezzo, un nemico a sinistra, un nemico a destra. Voi sparate al primo, togliete la mira, riagganciate sul secondo. Non fate il flick, ok? Molto spesso si sbaglia e si missano colpi anche, oltre che perdere tempo. Quindi, io qua sono stato molto preciso. Però, è stato abbastanza rischioso. Non fatelo quasi mai. È meglio, ascoltatemi, togliere il mirino e riagganciarlo subito sul nemico successivo. Se poi siete da lontano e i nemici stanno, ad esempio, correndo in mezzo a un campo, non hanno riparo né niente, ed è quasi impossibile che vi possano ittare, potete tranquillamente fare il flick da un nemico all'altro. Ma soprattutto, in discorsi ravvicinati, in situazioni ravvicinate, evitatelo. Ok? Evitate il flick da vicino. Poi, parliamo del doppio triangolo. A cosa serve il doppio triangolo? Il doppio triangolo, non vi faccio vedere video perché è chiarissima la cosa che adesso vi dirò, serve semplicemente per togliere l'animazione dell'arma. Ovvero, ogni qualvolta voi raccogliete un'arma da terra, ogni qualvolta voi switchate arma dalla primaria alla secondaria e non avete, se non sbaglio, su questo gioco si chiama sovraccaricato, ovvero che switchate arma molto più velocemente, non avete queste specialità, il doppio triangolo elimina l'animazione dell'arma e vi velocizza. Esempio, state ricaricando un PKM raccolto da terra. Ci piega tanto. Appena vedete in basso a sinistra che i colpi sono tornati da 16 a 100, doppio triangolo. E togliete la parte finale dell'animazione che vi ruba troppi secondi. Idem quando state switchando arma. Avete un Uzi e un M, un Fall. Cosa fate? Togliete l'Uzi, appena vedete che appare il Fall in basso, perché capite che siete sull'arma successiva, doppio triangolo e rompete l'animazione. Queste sono piccole cose che servono tanto anche per... È tutto in funzione al guadagnare tempo, ragazzi, per essere il meno vulnerabili possibili, ok? Questi discorsi non valgono ovviamente solo per Warzone. Ad esempio, anche in multiplayer, se state giocando, avete finito i colpi dell'arma, non sapete come fare, trovate un'arma per terra, la raccogliete, cosa fate? Aspettate che fa l'animazione, che la raccoglie, la assiste... No, la raccogliete doppio triangolo ed è già pronta, ok? Mi raccomando, queste sono due piccole pillole che ci tenevo a dirvi e servono veramente tutto in funzione del non essere vulnerabili e del guadagnare tempo sui nemici, che è ciò che vi fa rivincere la maggior parte dei frontali e uscire vivi dalla maggior parte delle situazioni. Ok, adesso ragazzi vi saluto e spero vi siano stati utili questi piccoli consigli. Ci bicchiamo nel prossimo video e sarà finalmente il tutorial sul movement. Vi andrò a spiegare ad esempio lo slide, il drop shot, il jump shot, eccetera, eccetera, eccetera. Ragazzi vi saluto e ci bicchiamo al prossimo video. Ciao belli!